Ben ritrovati al muro del pianto, quest'oggi con il tema La telefonia mobile soffoca la vita su un lascere. Ci sono ancora persone che dubitano del fatto che le radiazioni della telefonia mobile provochino effetti negativi alla salute. Ora, un semplice esperimento di alcune scolari danesi dovrebbe convincere anche i più scettici del fatto che questa tecnologia sia contro la vita. Nel loro esperimento hanno collocato delle ciotole con dei semi di crescione in uno spazio privo di radiazioni ed altre in una stanza che è stata attrezzata con due ruta wireless. Nei dodici giorni successivi, le alunne hanno documentato lo sviluppo del crescione ed osservato che, a differenza dei semi non irradiati, quelli esposti alle radiazioni non mostrano alcun segno di germinazione o di crescita. Cosicché la gravosa differenza era inconfondibile. Con questo esperimento che ha causato scalpore in tutto il mondo, le nuove leve della ricerca hanno vinto il primo premio di un concorso scientifico per giovani. È giunta l'ora in cui gli esperimenti più semplici sono in grado di mettere a nudo le menzogne della lobby della telefonia mobile e di farle crollare come un castello di carte. Cari telespettatrici e cari telespettatori, avere molteplici informazioni aiuta a formare la propria opinione. Allora aiutateci a diffondere anche le notizie non sottoposte a censura da parte di lobby o maggiori correnti mediatiche. Vi consigliate Clago e Mawa TV anche ad altri. Arrivederci a presto! Grazie a tutti!